Ci mancherebbe pasticca, ci mancherebbe il scopo del mio lavoro, dovere confidere purtroppo Purtroppo ragazzi, quello che avanza, quello che avanza è come un caccio di riparo De tempo, ci mancherebbe sotto, fa sempre piacere però di vederne ragazzi Fa sempre piacere di vederne Un nemico in discesa nell'area, fuoco autorizzato, sottotitoli bersagni Proprio di noi ce l'abbiamo? Esco una mini anti-carlo Sopra di noi, non abbiamo bisogno Sopra di noi, sono due Un ha serrato Avanti Eh, hanno buttato le Aspetta Se lasse la cultura Le manutes vado i sogni che fine hanno fatto? oh cazzo craccato craccato questo eh craccatissimo sotto a tutto a terra si è fatti agli altri non so dove stanno oh cazzo guardi c'è l'assalto mancato ok dobbiamo andare in mezzo a pressione ma si è fattato eh? i sogni tu lo c'è fatti guardano tutti la tutti quattro mila guarda che cazzo è laterata questo oh ma questo l'ho proprio sfannato no Ciro che fai Ciro? oh ciappa da Ciro oh oh guarda che c'è il Ciro? prendiamo prendi prendi prendo 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 non ce n'abbiamo gente sopra gli altri stronzi di questo qua sono tutti sotto al shop di con potrebbero busciare l'occhio infatti ma lo so troppo mi piace un botto tendono a farlo c'è ancora gente andiamo via sopra non so dove cazzo mi ha preso staccato è buonissimo è andato il merda verso io ti verso io ci ro ma la giù ma sopra siamo puliti non so dove cazzo stanno salgo dall'altra parte io ne vedo questi sopra era fortissimo non lo so ora lo dico subito anche al 3 comunque mi sa che ci stanno bussando sotto 32 metri si sono sotto e forse qualcuno ci pusha è crackato con il muro insomma sparano i di puttana questi eh non so mamma mia giro che cattivo era quello prima ma che cazzo è col drone eh ok è morto è morto è morto da solo era da solo 3ь PLU 6Si 最終ve è una volta 5 1 2 4 vuole ho salito lì due persone due persone sulle blu il è più facile guardate 2 di me, 2 di me mamma mia che fantasicheria, chi è? chi è? c'è una festa, dammi tutto non so quanta roba c'è qua sotto questi blastati devastati ci continuiamo a tenere il tetto ma se... vediamo la sicurezza che dice la... un mafio? che ha fatto? ma se lo fai insieme attenzione! comparto di frigorifero creato in arrivo questi se li hanno avuto di bianco piano terra secondo me nono no si si tu di fuooio ho fliccato a tuo suo senso a vederlo maiii guapin nemico in volo sta fermo è la sotto sopra sotto sopra è sempre... morto? si 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 eh ciro non perdona oh ma su prison vengono help help vengono 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 no 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 si zifra l'ho distrutti proprio l'ho distrutti mamma mia l'ho distrutti vedetevi a prendere le vostre armi vengono ma merdo il谢谢 si va a prenderla, si va a prenderla si va a prenderla io l'ho messo prima perchè sapevo che pushavano e timing perfetto è stato un goddammit ci ha salvato la partita quella roba eh ma abbiamo pure il tetto qua ottimo 3 team ragazzi siamo eh 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 3 mi ha lasciato un culo proprio lì dentro dove sei entrato non è stata una grande eh rick? t'ha detto culo eh ma a entrare qua dentro ragazzi qua c'è il bombarda sì 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 nelle scalette qua non è sicuro assolutamente contro il bombarda è entrata per tutto non so perché stavolta non è entrato ti ha detto culo o magari hanno infissato eh no 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 è entrato ma io sono rimasto con un pelo proprio di vita stanno venendo sì minchia sono rimasto proprio con un pelo infatti non ti copre la bombarda lì purtroppo oh dio ragazzi con l'archetto bravissimi bravi 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 bravi